Diciamo che dire Thomas Reis campione d'Italia è un'abitudine, ma dirlo a 37 anni è un altro sapore. Sì, devo dire che è bello tornare sul tetto d'Italia. Abbiamo vinto questa Coppa meritata, è stata una cavalcata bellissima. Ovviamente ci sono tanti ringraziamenti da fare, ovviamente tutta la società, il Patron Bognaro, Casarin, De Raffaele, ma anche tutti quelli che sono arrivati prima di questo ciclo, che hanno costruito la Reier dal 2006 a questa parte. Una domanda che ti hanno già fatto in molti, ma te la ripeto. Che sapore ha questo scudetto rispetto a quelli che hai ottenuto a Siena, rispetto al primo scudetto in cui eri un ragazzino alla Virtus. Bologna? Ovviamente me lo sento molto più mio, perché questo è stato un progetto di tre anni, che si è lavorato piano piano ogni anno per fare dei passi in avanti e questo penso che sia il giusto risultato per i tanti sacrifici che si è fatto noi giocatori e la società.